Allora, affrontiamo oggi l'altro argomento che è previsto per, diciamo così, gli argomenti di teoria del corso, che è quello dell'architettura dei calcolatori, dell'architettura degli laboratori, dove con architettura si intende non la costruzione di case, palazzi o templi, ma come è composto, quali sono le parti interne di un calcolatore, a cosa servono e come sono collegate tra di loro, quindi come sono strutturate tra di loro. Quindi noi ovviamente non entreremo nel dettaglio, per questo ci sono corsi di calcolatori elettronici che, diciamo così, ovviamente fanno di questo il loro tema principale, ma almeno cerchiamo di uscire da questo corso avendo un'idea di come fa a funzionare. Cioè quando io scrivo qualcosa in un linguaggio di programmazione, poi il computer lo fa. Come? Quali sono i meccanismi interni che fa sì che il calcolatore sia in grado di eseguire delle operazioni e quindi un'idea anche solo molto approssimata di quelle che sono le componenti interne. Alla fine l'architettura dei calcolatori è molto simile tra calcolatori, diciamo così, da un euro, come quello potrebbe essere il microcontrollore del vostro applicancello, del telecomando dell'applicancello, a qualcosa che magari vale anche migliaia o decine di migliaia di euro, come possono essere i server, che variano ovviamente in potenza, in capacità, eccetera, ma la struttura, grosso modo, è sempre la stessa. Allora noi avevamo iniziato il corso con un disegno simile a questo, in cui avevamo un calcolatore che era per noi una scatola nera, che riceveva degli input e generava degli output e dentro svolgeva l'attività di elaborazione. Allora gli input e gli output non li possiamo ricevere in astratto, ma ovviamente li riceviamo e li generiamo attraverso dei dispositivi, il mouse, la tastiera, lo schermo, il microfono, eccetera, che sono i dispositivi quelli detti periferici, cioè esterni al calcolatore, mentre all'interno del calcolatore avviene propriamente l'operazione di elaborazione dei dati veri e propri. Tra l'altro si distingue il fatto che i periferici normalmente lavorano nel dominio analogico, quindi un microfono, il microfono che sto usando adesso lavora con delle forme d'onda che sono la pressione acustica, la pressione dell'aria. Uno schermo lavora con dei colori, della luce, che sono tutte quantità del mondo fisico con cui il nostro essere umano può interagire. Io posso o le orecchie o la voce o gli occhi e quindi posso interagire con una parte delle informazioni che mi circondano se queste informazioni sono adatte al mio sistema di sensi. Posso scrivere i tasti sulla tastiera, la tastiera è stata progettata sulla base delle dita umane. Quindi questo mondo dei periferici è un mondo che permette a un essere prettamente analogico come siamo noi di andarsi a interfacciare con un sistema che al suo interno invece è un sistema digitale, cioè puramente numerico, puramente fatto di bit, di numeri minari. Ci saranno appunto queste periferiche che si occupano di fare le varie conversioni. Quando io sposto il mouse, che è un movimento nello spazio tridimensionale, questo movimento viene convertito in una serie di byte che vengono trasferiti in qualche modo tra il mouse e il computer e vengono elaborati dal computer e fanno sì che alla fine questa frecciolina si sposti. Cioè cambierà di nuovo dei bit che rappresentano questa immagine per far sì che l'illusione di avere una frecciolina sul video faccia sì che questa frecciolina frecciolina sembri un pochino più in là. Ovviamente è tutto finto, sono solamente tutti i numeri, ma dal nostro punto di vista percettivo stiamo controllando, abbiamo l'interfaccia che ci permette di controllare il calcolatore. Ma proviamo ad entrare dentro. Dentro il calcolatore ci sono essenzialmente dei circuiti elettronici. Mi è arrivato il microfono scarico oggi e non sono sicuro che il caricatore stia funzionando perché il lunedì non si può smentire. vediamo, è messo di qua, si accende una spia che vorrebbe dire forse che sta caricando. Non si accende più niente adesso. Parlavamo di interfacce analogiche, vedi perché mi piace il digitale. se no guardate. Questo funziona? Sì, usiamo questo. Ok, piuttosto di dover fare metà lezione non registrata perché il microfono si scarica, faccio la rockstar con questo. Dicevo, all'interno del calcolatore ci sono circuiti elettronici che grossomodo lo possiamo dividere in due parti, circuiti per l'elaborazione dei dati e circuiti per la memorizzazione, quindi elaborazione e memoria. Tutti quelli che sono i circuiti e i dispositivi che servono per gestire i periferici li chiamiamo, diciamo così, come un unico gruppo, anche se sono molto diversi tra di loro, le varie unità di ingresso e uscita. che normalmente si scrive I barra O, input barra output, e si parla spesso di dispositivi di I.O., ingresso e uscita, che sono tutti quelli che fanno convertire i dati puramente, prettamente numeri, digitali, interno al calcolatore in qualche cosa che sia modificabile o percepibile dall'umano. Mentre all'interno abbiamo l'unità di elaborazione, propriamente detta, che ha un compito essenzialmente, quello di eseguire le istruzioni, eseguire le istruzioni date dal software. A seconda del programma che scriviamo, i circuiti, il microprocessore, adesso vediamo cos'è, interno al calcolatore, eseguirà esattamente le istruzioni corrispondenti a quel programma e non ad altri. E, come abbiamo già avuto modo di percepire, quando io scrivo un programma è fondamentale che questo programma possa memorizzare dei dati, delle variabili, dei contenitori e quindi dovrà avere a disposizione uno spazio di memorizzazione temporanea delle informazioni stesse. Tra l'altro il programma stesso in qualche modo deve essere memorizzato da qualche parte, le istruzioni del programma, se no come può essere eseguito. E quindi c'è questo binomio inscindibile fatto da unità di elaborazione, c'è il nucleo centrale dell'elaboratore che è in grado di eseguire le istruzioni dei programmi e la memoria cosiddetta centrale che è una memoria strettamente collegata al microprocessore, al nucleo centrale di elaborazione che permette appunto al programma di memorizzare dei dati e utilizzarli, modificarli. Al componente di gran lunga più importante chiaramente è il cosiddetto microprocessore che è un circuito elettronico estremamente denso che troviamo su tutti i calcolatori. Io qua ho portato un po' di roba di scarto, quindi sono passato dalla discarica prima di venire qua, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Questa, ovviamente non so sul controllo del zoom qua, ma questo è un esempio di una scheda madre di un computer che non funzionava più, ho smontato qualche tempo fa. Quindi all'interno del calcolatore, chi non ha il coraggio di aprire il proprio, è fatto così. in realtà c'è anche altra roba, qui l'ho messo a nudo. È una serie di piste elettroniche, quindi questa basetta verde è disegnata di piccole piste che sono dei conduttori elettrici, da un lato e dall'altro e in tutta una serie di strati intermedi, in realtà le piste sono poste su più livelli per potersi incrociare. E all'interno di questa scheda madre c'è un componente che è questo, in questo caso su questa scheda madre qui è saldato, quindi non l'ho potuto togliere, che è il microprocessore. È il componente che esegue tutta l'elaborazione. Quindi noi possiamo avere un computer che è grande o piccolo eccetera, ma alla fine tutti i calcoli, tutte le volte che facciamo una somma, una sottrazione, un confronto, una segnazione di un dato avviene qua dentro. Tutto il resto è roba che serve, ma non è fondamentale, non è il cuore. Tra l'altro qui ovviamente ci prende in giro, perché il microprocessore sembra che sia una cosa larga, non so, 3x3 cm. In realtà siamo fortunati se è grande 3x3 millimetri al suo interno. Tutto il resto è scatolame, in scatolamento, packaging si dice. Sono supporti, materiali particolari che permettono innanzitutto al processore di potersi collegare con il resto della scheda, dissipare il calore, io qui non ho portato, non volevo caricarmi troppo tutto il dissipatore termico, la ventola per portare fuori il calore, per questo motivo perché non bisogna mai tappare l'evento del calcolatore, ma dentro l'elaborazione avviene dentro un circuito che un po' somiglia a questi, vediamo un po' se riesco a... Allora questa cosa qui, che non è un cd musicale, anche se non sapete neanche più cosa è un cd ormai, ma è una fetta, un wafer lo chiamano, estremamente sottile, quindi siamo all'ordine dei decimi di millimetro, sul quale sono stampate centinaia di circuiti elettronici. Cioè ognuno di questi quadratini, che non so quanto si vedono, è un circuito. Adesso non so cosa sia questa cosa qua, magari microprocessore, magari qualche cos'altro, questo circuito. Ma la produzione dei circuiti produce e stampa tante fette di questo genere, partendo da un cilindro, vengono prodotti in serie questi componenti, di questi componenti i metalli buttano via perché non funzionano, perché i processi miniaturizzati hanno sempre delle impurità dei problemi, ma quelli che funzionano vengono poi inscatolati dentro un packaging che li protegge, che li permette di collegarli e quindi poi funzionano all'interno del calcolatore. E la loro dimensione, in reale, è dell'ordine di qualche millimetro quadrato. Quindi tutto il computer in realtà è così. Ciò che sta intorno serve metà al processore per funzionare, quindi gli serve la memoria, gli serve qualcosa che porti via il calore in eccesso, perché quando tu hai un computer che consuma 50 watt, 70 watt, e questi 70 watt sono su una superficie di 3 millimetri quadrati, puoi immaginare la temperatura che raggiunge se tu non porti via il calore rapidamente e con continuità. Oltre una certa temperatura il metallo, sapete come fa, tende a fonderlo. La memoria, qui dentro c'è la capacità di elaborazione ma non c'è la memoria. Tutti gli agganci con le periferiche, per il video, l'USB, le porte, eccetera, sono tutti componenti che in parte servono al calcolatore appunto la gestione dell'energia, della temperatura e della memoria. E poi c'è tutte le parti che servono all'utente, la tastiera, il mouse, lo schermo, una scatola che più o meno non si rompa, si possa chiudere per proteggerlo, e tutta una serie di componenti in più che al microprocessore in realtà non servirebbero ma servono a noi per poterlo utilizzare. Quindi il cuore parte da un oggetto di questo genere che contiene dei circuiti elettronici i quali sanno fare una cosa sola, cioè eseguire le operazioni base sui numeri interi, sui numeri reali. Ho cercato di convincervi la settimana scorsa che saper operare sui numeri interi ci permette di fare qualunque cosa pur di adottare delle codifiche magari via via più complicate, ma alla fine ci riconduciamo sempre alla nostra cara vecchia sommatoria, somma di A con i per 2 elevato i. E ovviamente oltre che fare i calcoli, perché sarebbe brutto fare i calcoli e lasciarli, lasciarne il risultato qua dentro, il risultato di questo calcolo va in qualche modo spostato all'esterno del microprocessore propriamente detto, verso la memoria o verso le periferiche esterne, in modo che l'utente le possa utilizzare. Visto la dimensione, visto la dimensione di miniaturizzazione, di solito i processori moderni hanno a bordo un po' di memoria, ma non tanta e vedremo tra un attimo che serve della memoria aggiuntiva, per cui ad esempio questi connettori qua, beige, sono pensati per quello scopo. Ci arriviamo tra un attimo. Allora, come è fatto un microprocessore al suo interno? Qui ciascuno di questi piccoli circuiti, immaginiamocelo, internamente di fatto lo possiamo immaginare composto da una parte di lavorazione propriamente detta, la cosiddetta CPU, e una parte di circuiteria di appoggio, che sono le interfacce con cui lui si può collegare con il resto della scheda madre, non sono ancora le interfacce USB che noi vediamo, sono interfacce per collegare il processore al resto della scheda madre. E poi un po' di memoria locale, la famosa memoria cache, che è una memoria molto rapida, ma di capacità limitate, che permette alla CPU di memorizzare i dati più recenti. Ma è una memoria temporanea, è una memoria poco capiente e quindi da sola non è sufficiente, non ci starebbero tutti i dati che ci servono dentro la memoria cache, tanto per dirci è dell'ordine di qualche centinaia di kilobyte, centinaia di kilobyte, non arriva al megabyte, vabbè, sono i processori più ricchi, sì, ma sono comunque ordini di grandezze di questo genere. Tutto il resto invece è dentro la CPU, CPU sta per Central Processing Unit, unità centrale di elaborazione, che è il nucleo centrale, quindi una parte del microprocessore è la CPU propriamente detta. Nel gergo a volte si dice la CPU per intendere il computer intero, per dire quei computer fisso, lo scatolone, lo chiamano la CPU, ma in realtà la CPU è solamente una parte del microprocessore che è una parte della scheda madre, eccetera. Allora, dentro la CPU cosa c'è? Bien detto, è ciò che esegue le istruzioni. Come fa? Ma dentro possiamo immaginarci, per semplificare al limite, quattro macro blocchi. Due di destra, che sono le unità cosiddette operative, all'interno delle unità operative, sono unità di calcolo. Vedete che questa CPU è divisa in unità di controllo sinistra e unità operativa sulla destra. Sono tutti circuiti elettronici, ovviamente, ma hanno funzioni diverse. La parte di destra, l'unità operativa, è quella che sa fare i calcoli. Tipicamente c'è una, o più di una, unità rimeticologica, che sono i circuiti elettronici che sono in grado di fare le operazioni sui numeri interi. Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, moltiplicazione per due o per potenze di due, confronto e poco altro. Ci sono dei circuiti che sono in grado di fare queste operazioni. Gli presenti dei numeri binari e ti fa la somma, o ti fa la sottrazione, o ti fa la moltiplicazione. Questi numeri binari da dove li prende l'unità rimeticologica? Li prende da una memoria interna all'unità operativa, che sono questi registri colorati qua in rosa per rispettare le quote rosa. I registri sono delle piccole celle di memoria che memorizzano i dati su cui l'unità rimeticologica lavora. Quindi se io devo fare 3 più 7, prenderò un 3 e in qualche modo lo metto in uno dei registri, poi un 7 e in qualche modo lo metto in un altro dei registri, poi dirò all'unità rimeticologica, senti, fammi un po' la somma del numero che trovi nel quinto registro col numero che trovi nell'ottavo registro. E il risultato magari mettimelo nel dodicesimo registro. E l'unità rimeticologica fa quello, prende un dato, prende un altro dato, fa l'operazione, e salva il risultato. Questo è il suo scopo nella vita. Tipicamente ha qualche nanosecondo di tempo per farlo, quindi è un po' pressata, è sempre un po' ansiogena, però fa solo quello. E chi gli dice che operazioni deve fare? E con quali registri deve lavorare? Non con quali valori. I valori sono scritti dentro i registri. Ma quale registri deve usare, visto che ne ho tanti? Glielo dice l'unità di controllo. L'unità di controllo dice all'unità operativa cosa deve fare. In particolare all'unità rimeticologica all'interno dell'unità operativa dice che operazione voglio fare adesso, che operazione voglio fare dopo. Quindi quando noi in Python scriviamo A uguale 3 più 2, il processo di traduzione del nostro programma farà in modo che a un certo punto l'unità operativa istruisca l'unità rimeticologica a fare una somma di due valori in due registri nei quali sono stati caricati il 3 e il 2, codificati ovviamente in complemento 2 su 64 bit, se abbiamo scritto in Python. E l'unità di controllo svolge questa operazione. Quindi l'unità di controllo è quella che in qualche modo capisce il programma da eseguire e scompone il programma da eseguire, che è già scritto in una maniera abbastanza di basso livello, lo scompone in unità, in operazioni elementari che l'unità operativa sia in grado di compiere. Se io volessi già fare 3 più 2 più 5, l'unità rimeticologica non è capace di fare la somma di tre numeri ma solamente di due e quindi andrà decomposta in qualche modo. C'è anche un'altra unità spesso aritmetica, che a volte prende il nome di unità floating point che fa la stessa cosa ma sui numeri reali. Quindi è in grado di fare somma e sottrazioni ma anche di più di solito radici, potenze, logaritmi o cose di questo genere sui numeri reali, anziché l'unità rimeticologica che lavora prettamente sui numeri interi. Questi sono i circuiti all'interno dei quali avvengono davvero le operazioni. Sono i circuiti che sanno fare le operazioni. L'unità operativa sa fare le operazioni ma non sa quale operazioni deve fare. Quali sia le operazioni che deve fare glielo dice l'unità di controllo. L'unità di controllo con un meccanismo che vedremo tra un attimo capisce quale operazione deve far fare all'unità operativa andando a leggere il programma che in ultima analisi noi abbiamo scritto, che in qualche modo poi è stato tradotto in linguaggio macchina. E i registri come fanno, visto che qua siamo dentro il microprocessore, ad avere i dati? Come fa ad arrivare il 3 più 2 dentro i registri? Beh in qualche modo l'unità operativa dovrà anche, e qui sono le frecce gialle verso il basso, dovrà anche poter leggere e scrivere dati da una memoria che è esterna alla CPU stessa. Perché è la memoria che magari andiamo a usare per visualizzare il dato, per stamparlo o per salvarlo su un file. Quindi questi dati devono poter entrare e uscire dall'unità armetricologica. La cosa che è un po' curiosa è che l'unità di controllo i dati non li tocca mai. Non vede mai se sto facendo 3 più 2 o 100 più 9. Lei sa che a un certo punto devo fare la somma di due numeri e quei numeri sa dove trovarli, sa dove si trovano. Poi dà gli ordini e gli altri fanno. Quindi l'unità di controllo è molto più piccola e compatta perché deve solo decidere quale operazione fare e i dati non transitano mai dall'interno dell'unità di controllo ma solamente dalla parte operativa. La somma di questi due signori, unità di controllo e unità operativa fanno la cpu. L'unità operativa a sua volta appunto la vediamo divisa in unità ritmetiche in tera e frotting point e registri. I registri sono alcune celle di memoria che servono a memorizzare alcuni dati. Quando dico alcuni i registri sono qualche decina, 10, 12, 24, alcuni processori RIS ne hanno 128, ma sono dell'ordine di veramente unità o poche decine di celle di memoria. Quindi veramente possono solamente mantenere i dati che sto usando in questo istante. In più l'unità operativa contiene anche un altro registro particolare di cui parliamo tra un secondo che è il cosiddetto registro dei flag che permette di aiutare l'unità di controllo a decidere che cosa fare. Allora il registro dicevamo, qui c'è scritto quello che avevo appena detto, contengono i dati di lavoro dell'unità operativa e sono in un numero estremamente limitato. Contengono dei dati, quanto sono grossi i registri? 8 bit, 16 bit, 32, 64? Beh dipende dal microprocessore. I microprocessori dei personal computer che abbiamo normalmente lavorano con registri da 64 bit, alcuni da 128. I microprocessori più piccoli invece non hanno bisogno di tutta questa ampiezza di rappresentazione, di questa potenza di calcolo e lavorano magari a 16 bit o a 8 bit come le primissime console per videogiochi. quindi la dimensione del registro dipende dal tipo di microprocessore. E logicamente ciò possiamo immaginare così, i registri li possiamo immaginare come una sfilza di cellette, qui per comodità le ho numerati da 0, 1, 2, 3, 4 fino a 31, facciamo finta che questo microprocessore abbia 32 registri. E ciascuno può contenere un certo numero, qui abbiamo disegnato un numero di 8 bit. E ogni volta che avviene un'operazione l'unità rimeticologica, che è quella sulla destra fatta a freccia, questa forma a freccia dell'unità rimeticologica ci ricorda che ha due ingressi, prende due operandi in ingresso e genera un risultato in uscita. un risultato in uscita che lo genera prendendo dei dati, 3 più 2 che dicevo prima, da due registri, che in qualche modo l'unità rimeticologica può leggere il contenuto di un registro, e il risultato dell'operazione, che in questo caso è una somma, qualcuno gli ha detto che deve fare una somma, e questa freccia gialla arriva dall'unità di controllo che gli dice cosa fare, e il risultato viene memorizzato nel registro numero 10, e il risultato in questo caso è un 5. Quindi, se potessimo avere un microscopio e vedere cosa succede dentro l'unità rimeticologica, vedremmo cose di questo genere che accadono, a ripetizione. Quindi, al prossimo ciclo l'unità rimeticologica si chiede adesso cosa devo fare, e l'unità di controllo dirà adesso dovrei fare una divisione tra questo numero e quest'altro numero, e così via, all'infinito. I registri quindi normalmente mantengono i dati, che siano essi operandi, cioè i valori su cui fare l'operazione, che siano essi risultati, cioè il valore appena calcolato l'operazione. E poi c'è un registro speciale, che viene chiamato registro di flag, dei flag, per dire. Un flag noi l'abbiamo usato come concetto in programmazione per indicare una variabile logica, vera o falsa, che mi permetteva di capire se una certa condizione si era verificata oppure no. Serviva, quando scrivevamo i programmi in Python, per dire ok, io qui, in questo momento, in questo luogo del programma, so che una certa cosa è avvenuta, in un altro luogo del programma mi serve saperlo, sapere se si è avvenuto o no, perché dovrò prendere delle decisioni. Ecco, lo stesso concetto, ovviamente dal livello circuitale è tutto diverso, ma lo stesso concetto c'è anche qua. Quando noi facciamo un'operazione 3 più 2, può darsi, 3 più 2 no però, quando facciamo un'operazione di somma, può darsi che questa somma, abbiamo visto la volta scorsa, generi un overflow, ad esempio. Allora il programma dovrà dare un errore, generare un'eccezione. Ma come fa il programma da questo momento in avanti a generare un'eccezione, quindi a fare una cosa diversa perché si è verificato una condizione di overflow? Chi è che può dire al programma che deve fare una cosa diversa, che sia l'unità di controllo, che decide che dopo che ho fatto questa operazione, anziché fare l'operazione successiva normalmente, devo gestire una condizione di errore. Ma l'unità di controllo come fa a sapere se c'è stato overflow, visto che l'operazione di somma la fa, l'unità operativa che è da un'altra parte, e i risultati dell'operazione, abbiamo detto, i dati, i valori, l'unità di controllo non li vede. Fa proprio attraverso questo registro dei flag, che ha una serie di bit sparsi, li chiamiamo registro perché abbiamo tanti bit li mettiamo tutti insieme, ma anziché essere codificato in binario a questo registro, ogni bit ha un suo significato. Ad esempio ci sarà un bit di questo registro che viene messo a uno da chi? Dall'unità operativa, tutte le volte che l'operazione che ha svolto ha generato un overflow. Ci sarà un altro bit che verrà messo a uno tutte le volte che l'operazione svolta ha generato un riporto, un carry, che mi serve se sto lavorando in binario puro. Ci sarà un altro bit che viene messo a uno dall'unità operativa, tutte le volte che l'operazione che ho appena svolto ha dato come risultato zero. Lo zero è utile perché se sto confrontando due numeri chiedo l'unità operativa, fammi la differenza e poi mi chiedo se la differenza è zero. Ci sarà un altro bit che va a indicare se il risultato dell'ultima operazione è positivo o negativo e mi permette di implementare il maggiore o il minore a livello di programmazione e così via. Quindi l'unità operativa in realtà ha due compiti. Uno è quello di calcolare il risultato, ma l'altro è quello di aggiornare tutti questi mini flag, queste mini informazioni booleane, il segno, lo zero, il positivo, l'overflow, il carry e altre, impostando un valore in questo registro. Questo registro può essere visto dalla unità di controllo, quindi può decidere se l'operazione valeva zero, faccio una cosa, se non valeva zero ne faccio una diversa. Quindi posso prendere delle decisioni sulla base non dei numeri, perché non li vedo, ma dell'esito che ha dato una certa operazione. E questo è quello che mi permette di implementare l'if e l'while, che a un certo punto sulla base di una certa operazione, che è di solito un confronto o qualcosa di questo genere, quindi sarà una sottrazione che fa l'unità metacologica, decide se deve ancora eseguire una volta il ciclo, oppure se deve eseguire il ramo else, oppure cosa deve fare. Questo perché a un certo punto l'unità operativa metterà un flag a uno o a zero e l'unità di controllo sulla base di questa informazione decide come procedere. Perché parliamo di due unità arimetiche separate, l'unità intera e l'unità in virgola mobile, ma perché ovviamente le operazioni intere sono molto più veloci da eseguire che non un'operazione tra numeri reali in cui devo andare a vedere prima di tutto gli esponenti, se sono uguali, se non sono uguali, normalizzarli, fare somme, moltiplicazioni, eccetera. Quindi le unità in floating point tipicamente fanno operazioni in modo più lento rispetto all'unità metacologica intere e questo è uno dei motivi per cui, qui è indicato un numero 5,50, in realtà sui processori più recenti questa forchetta si sta riducendo perché si è investito molto anche sull'unità in floating point. Però questo è uno dei motivi per cui quando posso a livello di programmazione cerco sempre di usare i numeri interi anziché i numeri reali, perché dentro il calcolatore sono molto più leggeri da elaborare rispetto ai numeri reali, oltre al fatto che non hanno, quando posso usarli chiaramente, quando ha senso usarli, non hanno problemi di approssimazione. E l'unità di controllo alla fine, che abbiamo accettato per ultima, è quella che dà i comandi. Dà i comandi ma lei non sa che cosa voglio fare. Cioè un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quando qualcuno ha progettato questo processore, ci ha messo dentro un'unità di controllo e non poteva sapere che programma io farò, su questo computer non faccio più nessun programma, ma che programma vorrò fare io domani. Quindi l'unità di controllo deve essere in grado di dare all'unità operativa i comandi per eseguire il programma che decido io, che ha deciso il programmatore quando userà il calcolatore. Quindi qui c'è scritto che l'unità operativa decide l'operazione da eseguire, poi qua è scritto male perché non è che decide l'operazione da eseguire lei, decide l'operazione che l'unità operativa dovrà eseguire. Quindi lui dice, l'unità di controllo dice bisogna fare una somma, però non la fa, la fa fare all'unità operativa. Infatti dà gli ordini all'unità operativa dicendo quale operazione deve fare. Però la decisione di quale operazione eseguire viene decisa, viene presa in base alle istruzioni contenute nel programma. Quindi l'unità di controllo va a vedere il programma che ho scritto, un'istruzione dopo l'altra dice ok, nel programma c'è questa istruzione, allora questa istruzione implica che l'unità operativa debba fare questo. Poi all'istruzione successiva cosa c'è? C'è scritto una cosa diversa, ok allora l'unità di controllo dovrà prendere l'istruzione successiva e la tradurrà in ordini verso l'unità operativa e così via per tutta la sua vita. Ovviamente io qui ho fatto gli esempi in Python, ma il tipo di programma che l'unità di controllo legge non è un programma scritto in Python, è un programma scritto in codice macchina, in codice binario, in cui il nostro programma Python viene tradotto in istruzioni molto più semplici, le cosiddette istruzioni assemble, le istruzioni macchina, che sono direttamente comprensibili dall'unità di controllo del computer che abbiamo. Poi i concetti sono sempre gli stessi, ma le istruzioni che l'unità di controllo è in grado di decodificare ed eseguire sono molto più semplici che non le istruzioni Python. E come fa l'unità di controllo a gestire questo? Beh attraverso un meccanismo molto semplice, qui siamo dentro l'unità di controllo, questo blocco giallo rappresenta l'interno dell'unità di controllo, che si avvale di due registri interni all'unità di controllo. Quindi gli altri registri di cui parlavamo, compreso i flags, stanno dentro l'unità operativa. Dentro l'unità di controllo ci sono due registri fondamentali che prendono il nome di program counter e instruction register, chiamiamo così, poi ogni processore li chiama in modo diverso. Il primo è il contatore di programma PC program counter e cosa fa? Si ricorda qual è l'indirizzo di memoria nel quale giace la prossima istruzione che deve essere eseguita. Quindi quando io accendo il computer tipicamente il program counter vale 0 e questo dice che la prima istruzione che questa CPU dovrà eseguire, o meglio che questa unità di controllo dovrà fare eseguire l'unità operativa, è l'istruzione che è memorizzata nella cella 0 di memoria. E allora cosa succede? Succede che l'unità di controllo chiede alla memoria che cosa c'è nella cella 0, cosa c'è nella cella di memoria il cui indirizzo è specificato dal program counter. Ci sarà un certo codice binario che viene letto e memorizzato in questo altro indirizzo, instruction register, il registro dell'istruzione, il registro che memorizza l'istruzione corrente, che memorizza il codice binario dell'istruzione che adesso devo eseguire, che era scritta in memoria. E chi ce l'ha messa in memoria? Beh, il compilatore, partendo dal sorgente che ha scritto l'utente, che ha scritto il programmatore. Quindi, dato la conoscenza di qual è la cella di memoria in cui c'è il programma, cioè l'indirizzo di memoria scritto dentro il program counter, uso questo indirizzo per indicizzare la memoria. La memoria mi darà una parola in uscita che contiene una codifica binaria non di un numero intero, non di un numero reale, ma di un'istruzione. Anche lì bisogna andare a vedere sul manuale del microprocessore come lui codifica le sue istruzioni. Fatto questo, l'unità di controllo sa o può sapere quali istruzioni deve eseguire. E quindi ha una sua logica, che è quella designata qua in blu, chiamata logica di controllo, che decodifica la codifica binaria dell'istruzione, leggendola dall'instruction register e trasforma questa codifica in comandi, la freccia sotto che esce ai comandi, che indirizzo un po' dove va, va all'unità operativa. Quindi, program counter, leggo la memoria, ricevo l'istruzione, decodifico l'istruzione e capisco se devo fare una somma, una sottrazione, anzi non se devo fare, se l'altro deve fare una somma, una sottrazione e di quali dati. E li trasformo in comandi. Quindi, i comandi che escono sono decisi dall'unità di controllo sulla base del contenuto della memoria, la memoria la quale conterrà il programma che abbiamo scritto noi. Poi c'è un'altra freccia che torna dentro l'unità di controllo che è questo stato che proviene dal registro di flag essenzialmente, che dice all'unità di controllo com'è andata l'operazione che mi hai chiesto. Sì, sì, io l'ho fatta la somma, però c'è stato overflow. Ah, sì, sì, ho fatto la differenza, il risultato è positivo. E quindi l'unità di controllo di solito se ne frega di questo risultato, ma in alcuni casi, quando sono in un'istruzione di confronto, di salto, di scelta, di ripetizione, allora quell'informazione è utile all'unità di controllo per sapere se andare avanti e eseguire le istruzioni in ordine sequenziale oppure saltare in un'altra parte del programma. L'unità di controllo, quindi, è intrappolata a vita in questo ciclo. Preleva un'istruzione della memoria centrale, interpreta l'istruzione ed esegue l'istruzione. Quando finisce di eseguire un'istruzione non è che si riposa, va a prelevare l'istruzione successiva. Non c'è nessun momento in cui la CPU sia ferma o faccia altro, fa sempre solo questo, in particolare l'unità di controllo. Rispetto a quanto abbiamo detto, qui è schematizzato in tre fasi. La prima fase preleva un'istruzione della memoria centrale, viene detta fase di fetch. Prendi, preleva. È schematizzato dicendo accedi alla memoria all'indirizzo indicato dal programma counter e memorizza il risultato dentro l'instructional register. E poi, cosa che noi non abbiamo ancora detto finora, non l'abbiamo esplicitato, incrementa di uno il program counter. Perché se per definizione il program counter mi dice qual è l'istruzione che devo eseguire, la prossima istruzione che dovrò eseguire, dopo che ne ho letta una mi dovrò predisporre per leggere quella successiva, quella subito dopo. E quindi normalmente l'esecuzione sequenziale di un programma counter è determinata da istruzioni posizionate in celle di memoria consecutive, quindi leggerò la cellula 0, poi la 1, poi la 2, poi la 3, poi la 4. Quando io ho incrementato questo program counter, quando il ciclo tornerà dall'inizio e rieseguirà questa operazione di fetch, farà il fetch dell'istruzione al nuovo program counter, quindi alla cellula successiva. E grazie a questo ciclo quindi eseguirai di fila tutte le celle di memoria. poi c'è la fase di decodifica, in cui guarda l'unità di controllo, guarda cosa c'è scritto nell'instruction register e capisce che operazione deve fare, dove capire per l'unità di controllo significa tradurre in comandi per l'unità operativa. Capire è una parola grossa. Decide quali comandi dare all'unità operativa osservando qual è l'istruzione da fare. e poi c'è la fase di esecuzione che è un po' fasulla perché per l'unità di controllo l'esecuzione significa dire guarda cara l'unità operativa io ti ho dato i comandi, aspetto che tu finisca di eseguirli. Quindi la fase di esecuzione è una fase in cui l'unità operativa lavora e l'unità di controllo sta aspettare che finisca. Una volta che l'unità di controllo l'unità operativa ha finito, l'unità di controllo può ricominciare dall'inizio eventualmente se può analizzare a seconda dell'istruzione che ha eseguito, se è un'istruzione di salto di if o di ciclo allora deciderà a che indirizzo andare a seconda dei valori di flag. Quindi alla fine abbiamo questi due componenti estremamente stupidi. L'unità operativa che passa la vita a fare questa cosa qua, prendere i valori dei registri, gli fa un'operazione aritmetica e mette le registrate sui registri. L'unità di controllo che passa la vita a fare questo, legge una cella di memoria e la traduce in comandi da dare all'unità operativa, la quale fa quell'operazione tra i registri, semplificando alla fine dentro il calcolatore succedono queste cose. Succedono a una velocità molto elevata, quindi stiamo parlando di miliardi di iterazioni per secondo. Però questo è il meccanismo con cui si traduce il programma che scriviamo nel fatto che avvengono le elaborazioni. Io sto facendo una somma di numeri e questi numeri uno per uno vengono attraverso questo meccanismo un po' contorto portati dentro l'unità operativa e gli fa la somma, gli fa la somma di quello dopo, gli fa la somma di quello dopo ancora, il risultato intermedio lo metto in un registro, questo registro lo userò come operando dell'operazione successiva e così via fino a quando non avrò un risultato nel registro che poi potrò salvare e mandare fuori. Tutto sempre deciso, chi comanda, il contenuto della memoria che comanda. A seconda delle istruzioni che metto dentro la memoria questo calcolatore farà una cosa o ne farà una completamente diversa. Lui di base ha la possibilità di eseguire qualunque tipo di programma dipende solo dall'istruzione che gli diamo. Quindi qua abbiamo un pochino più di compassione per questa povera macchina quando scriviamo una cosa e diciamo ma non capisci cosa volevo fare? E poverino non capisci, è intrappolato dentro questi due cicli qua, a vita, non può guardare fuori cosa succede o cercare di capire cosa stavamo facendo. E ovviamente i costrutti della programmazione che conosciamo e i tipi di istruzioni che sono decodificabili, sono conosciute dall'unità di controllo in qualche modo sono imparentate. Cioè se l'unità di controllo non avesse mai l'operazione di confronto noi non potremmo scrivere né un if né un while né un for. Se non avesse l'operazione di somma non potremmo fare somme eccetera. La differenza è che il livello a cui ragioniamo quando programmiamo con un linguaggio d'alto livello fa sì che in un'unica istruzione magari scriviamo l'equivalente di 40 istruzioni elementari binarie che la CPU dovrà eseguire. Quindi una singola istruzione Python può veramente voler dire 10, 50, 100 istruzioni in linguaggio a macchina che la CPU dovrà eseguire. Noi questo non lo vediamo perché ci pensa l'interprete Python a fare questa traduzione dal codice che scriviamo al codice che la CPU è in grado di capire. Tutte le CPU capiscono dei codici che sono estremamente di basso livello. Questa è la parte operativa della nostra CPU. CPU è unità operativa e unità di controllo messa insieme in questo loop stretto. Le quali vivono perché sono collegate alla memoria che innanzitutto conterrà le istruzioni del programma e poi la memoria conterrà magari i dati di partenza perché non possono nascere nei registi questi dati e conterrà i risultati delle elaborazioni. I registi abbiamo detto che sono pochi, da 10 a 100 e quindi mi serve una memoria più ampia per contenere il programma e per contenere i dati su cui il programma dovrà lavorare. Ho parlato di velocità e quindi tra un attimo arriviamo alla memoria. Ho parlato tutti questi componenti a mettersi d'accordo. Beh, all'interno dell'elaboratore c'è un orologio, un temporizzatore, una sorta di metronomo, così banalmente lo chiamiamo il clock, che genera un impulso a frequenza costante che un po' dà un po' il tempo ai vari componenti. Quindi l'unità di controllo avvierà una nuova fase di fetch ogni volta che arriva il segnale di clock, avvierà una nuova fase di decodifica ogni volta che arriva un segnale di clock. L'unità operativa quando arriva un segnale di clock legge il dato, quando arriva il segnale di clock successivo salva il risultato e così via. Cioè tutte le operazioni al loro interno, questi circuiti non vanno avanti ciascuno alla propria velocità. Ovviamente andano avanti ciascuno alla propria massima velocità, ma per essere sincronizzati, per essere sicuro che l'unità operativa stia lavorando sul dato che l'unità di controllo sta pensando e non sia già più avanti al dato successivo o indietro al dato precedente, tutto viene sincronizzato attraverso questo segnale di clock, che è poi quello che leggete quando leggete le caratteristiche tecniche di un calcolatore, dice qui c'è il processore, ma anche uno smartphone, un processore Snapdragon tra l'Italia a 2.7 GHz. Cos'è quel 2.7 GHz? Non è sicuramente la frequenza della radio che ascoltate, è la frequenza del segnale di clock interno alla CPU. Dice che in teoria quella CPU è in grado di eseguire circa 2.7, circa 3 miliardi di operazioni elementari al secondo, che poi li usate per scrollare TikTok per un altro conto. Questa viene chiamata il periodo del clock, spesso appunto si esprime sotto forma di frequenza in Hz o in megahertz o in gigahertz, ma ovviamente i periodi di frequenza sono al reciproco l'uno dell'altro. In realtà le cose sono più complicate nel senso che all'interno di un calcolatore esistono tanti clock diversi. Il più veloce di tutti è quello della CPU, ma poi ci sono altri componenti all'interno del calcolatore che vanno più lenti e quindi avranno segnali di temporizzazione a frequenze più basse adeguate alle operazioni che devono fare. Quindi tipicamente le memorie vanno sui 200 megahertz, non gigahertz. Quindi non clock è 10-100 volte più lento rispetto al clock della CPU, proprio perché il componente impiega più tempo per fare una determinata operazione. Oltre al fatto che di mezzo c'è anche una cosina che si chiama velocità della luce, che per andare da un lato all'altro di questa scheda impiega qualche nanosecondo e qualche nanosecondo significa qualche gigahertz. Quindi non potrei mai andare a un gigahertz su tutta questa scheda. Perché il tempo che io ho messo un segnale da questa parte è già passato un nanosecondo, ma il segnale non è ancora arrivato all'altra parte e quindi non avrei coerenza con i valori logici. Quindi c'è tutto un casino, detto in termini scientifici, che fa sì che le varie parti del calcolatore comunichino tra di loro a velocità diverse, ma il concetto base è che noi abbiamo dei segnali di temporizzazione per ciascuna componente e quello più importante, chiaramente quello per la CPU, che determina la velocità di esecuzione e il consumo di potenza. Quando voi avete il calcolatore e sta lavorando, sta frullando, sta facendo dei calcoli, consuma più batteria. Ovviamente, perché fa più operazioni al secondo e ogni operazione consuma un pochino di energia, qualche picco watt di energia. Se invece avete il calcolatore lì e non state facendo un gran che, state ammirando ciò che avete scritto, la CPU se ne accorge, si accorge che non state facendo nulla e internamente ci sono dei circuiti che abbassano la frequenza di clock, abbassando quindi il consumo di energia, fino a quando voi non tornerete di nuovo a cliccare a fare qualcosa, allora a quel punto di colpo questo clock riaccedera. Quindi non è proprio vero che sia un metronomo che va a velocità costante, ma si adegua alle necessità, a che cosa deve fare il programmatore, cioè l'utente del computer in quel momento. Poi non tutte le operazioni si possono compiere in un ciclo di clock. Tipicamente il ciclo di clock è l'unità di misura del tempo che ci impiega l'unità metricologica a fare operazioni elementari, insomma, sottrazione, moltiplicazione di interi. Qui in questa tabellina si immagina che un FPU, una operazione in virgola mobile, magari ci possa impiegare 15 volte la durata di un'operazione tra numeri interi, quindi tipicamente impiega 15 istanti di clock, 15 cicli di clock. Quindi l'unità di controllo che dà il comando all'unità in virgola mobile, fai 1 diviso 3.6, poi deve aspettare 15 cicli di clock e poi solo dopo potrà leggere il risultato, perché quello è il tempo che ci mette in unità in virgola mobile a fare quell'elaborazione. Ma tutto è temporizzato sulla base del clock o dei multipli del clock, a seconda chiaramente dei componenti che abbiamo. Più ci allontaniamo dalla CPU, più facciamo operazioni che mi portano lontano dalla CPU, più queste operazioni saranno lente, perché devono uscire dal processore, quindi passare a zone dove il clock è più lento, passare a componenti che sono più lenti. Non a caso se andiamo a prendere il prezzo di un computer, il 60% è il prezzo della CPU che è il componente più piccolo di tutti, perché è quello più veloce, più intelligente, più denso di tecnologia. Il resto costa meno, avrà un po' meno. Quindi fa vedere un'operazione di input output, se io faccio una print di un dato o qualcosa di questo genere, mi richiede 100 volte di più, ma in realtà 100 è sottostimato rispetto a un'operazione che avviene interamente dentro la CPU. Ecco, finora abbiamo parlato di memoria come qualcosa in cui ci sono i dati e cui la CPU può avere accesso. infatti esiste all'interno di tutti i calcolatori uno spazio di memoria, se io riuscissi a switchare questa cosa qui ve la farò rivedere, ad esempio in questa scheda madre ci sono questi due connettori qua, normalmente se avete computer ce ne sono o due o quattro, dentro i quali potete inserire dei moduli di memoria che sono anche loro, a vederli così sono uguali, sono sempre circuverdi, con i piedini dorati, e sono la memoria interna delle laboratorie. Se noi colleghiamo questi oggetti qui, adesso con una mano non ci riesco, clic, così facendo, adesso dall'immagine sembra che sia sparito, ma c'è ancora, l'abbiamo collegato, la memoria, il circuito di memoria, alla scheda su cui c'è il microprocessore e quindi in questo modo il processore potrà, prendo un altro perché non riesco a staccare questo, il microprocessore potrà leggere o scrivere i dati da questi circuiti di memoria. Sono sostituibili perché nella maggior parte dei calcolatori la memoria si può espandere, e posso sostituire i moduli che mi arrivano con altri moduli più capienti fino a una certa dimensione supportata dal progettista della scheda madre. Quindi quando parlo della memoria, quando il processore legge un dato della memoria, pensate al fetch, devo prendere un dato che sta qui e farlo arrivare dentro all'unità di controllo che sta qui. Poi dopo una volta che il dato è qua vado veloce, però prima devo andare a leggere il dato della memoria che mi richiede un'operazione esterna al calcolatore stesso. E perché devo memorizzare fuori questi dati e questi programmi? E perché dentro non ci stanno. Perché quando voi comprate un computer, al giorno d'oggi avrà 8 giga, avrà 16 giga di memoria, gigabyte di memoria, 32, quanto sono, dipende da quanto avete comprato, e abbiamo detto che dentro il calcolatore ci stavano kilobyte di memoria, la memoria cache che riprendiamo tra un attimo, massimo kilobyte. Nei registri ci sono decine di byte, 20 registri, da 4 byte ciascuno, da 8 byte ciascuno, 100 byte in tutto. La memoria cache che è dentro il processore è 100 kilobyte, ma la memoria che mi serve in un calcolatore è 20 gigabyte. Tra chilo e giga c'è ancora mega di mezzo, eh? Quindi stiamo parlando di un milione di volte la capacità di memorizzazione della memoria centrale di un calcolatore è un milione di volte la memoria che ci potrebbe stare dentro un singolo microprocessore. E quindi non c'è speranza di poterla far stare dentro un microprocessore. La metto fuori. E questa memoria dovrà essere, se io ho soldi, la più capiente possibile e la più veloce possibile. Poi c'è sempre un compromesso e quindi ci troverà la memoria abbastanza capiente e abbastanza veloce. E come funziona la memoria? La memoria di fatto è un grosso banco di caselle di memoria, di caselle ciascuna delle quali può contenere un dato. E immaginiamoci una specie di lunga lista di caselle, ciascuna delle quali contiene un numero intero, un numero binario, che possiamo decodificare come intero, ad esempio, e è indirizzabile e accessibile attraverso un indirizzo numerico, che va da zero in avanti. Ok? Quindi la memoria la possiamo immaginare come una schiera lineare di celle, dalla prima all'ultima, ciascuna ha un indirizzo numerico e ciascuna può contenere un valore binario, una parola fatta da un certo numero di bit. Anche qua, così com'è già per i registri, ci sono memorie di cui il parallelismo è di 8 bit, di 16, di 32, di 64, di 128, dove con parallelismo di memoria si intende il numero di bit di cui è composta ciascuna cella di memoria. Ciascuna cella di memoria, sono tutte uguali, con tutta la stessa dimensione, ciascuna può essere più grande o più piccola a seconda del calcolatore che abbiamo, a seconda del tipo di memoria che abbiamo. Chiamiamo parallelismo il numero di bit paralleli che riesco a leggere o a scrivere in un botto solo quando leggo o scrivo una singola cella di memoria. E quella dimensione di memoria di solito coincide con la lunghezza dell'istruzione, dell'instruction register, perché poi quella cella lì conterrà un'istruzione che mettono in struction register. Conterrà, quella dimensione corrisponderà alla dimensione normale degli interi. Normalmente un processore la cui unità di metrica logica lavora su 64 bit e ha il registro di 64 bit avrà una memoria di 64 bit in modo che il dato che leggo nella memoria ci sia giusto nel registro. Se avessi una memoria più grande ogni volta che leggo un dato devo occuparmi due registri. Se avessi una memoria più stretta ogni volta che leggo un dato da mettere in un registro devo fare due letture della memoria. Una cella e quella dopo perché ogni cella mi dà solamente il valore di mezzo registro. Quindi un sistema ben dimensionato è un sistema in cui il parallelismo dei registri, il parallelismo dell'unità di metrica logica, il parallelismo della memoria di fatto sono allineati. In alcuni casi la memoria è un parallelismo più ampio perché per comodità quando leggo una cella faccio che leggiano anche quelle successive. ma questa è già un'ottimizzazione prestazionale, non cambia l'architettura. E abbiamo già visto quindi che nel calcolatore ci stanno più tipi di memoria. La memoria con la direzione centrale, la memoria RAM, che è questa qui, è quella principale, è quella che contiene il programma da eseguire. senza di questa il processore non può partire, abbiamo detto il processore cosa fa? Quando lo accendo va a leggere che della memoria dammi il contenuto dell'istruzione numero zero, si accende al numero zero e se non c'è memoria non c'è nessun contenuto, il processore si blocca di subito. Contiene i dati di lavoro, contiene le variabili del nostro programma, contiene le strutture di dati del nostro programma, contiene il programma stesso, contiene il sistema operativo, Windows, contiene il compilatore Python, contiene tutti i programmi che in quel momento sono in esecuzione sul calcolatore e tutti i dati associati a questi programmi. Per questo che ne serve tanta, più ce n'è, meglio è, più programmi contemporaneamente riesco ad aprire e a usare. Ma non è infinita. E quindi mi servono altri tipi di memorie che siano magari più capienti ancora di queste. Chiaro che una memoria di dimensione più grande possibile, che costi il meno possibile, che sia il più veloce possibile, sarebbe l'ideale, ma non l'abbiamo ancora inventata. Allora ci accontentiamo cercando di combinare tra di loro le caratteristiche di memorie diverse in modo da trovare dei buoni compromessi. Già abbiamo detto che i registri sono velocissimi, un registro risponde in un ciclo di clock, ma ho 20 registri. Non ho 20 miliardi di celle o 10 miliardi di celle, 8 giga, 8 miliardi di celle. che sono molti di più, quindi sono molto più capienti, ma sono molto più lenti. Un registro risponde in 1, 2 nanosecondi, una cella di memoria risponde in 20, 30 millisecondi. Nano, micro, mille. Di nuovo c'è un fattore un milione. Tutte le volte che la CPU ha bisogno di un dato dalla memoria, deve aspettare un milione di cicli di clock che questo dato arrivi. Dal punto di vista della CPU, se voi viveste dentro la CPU, il mondo sarebbe di una noiosità incredibile. Non succede mai nulla. Mi arriva un dato e poi, ah, che bello, c'è un dato, aspetto un altro milione di cicli di clock perché mi arrivi quello successivo. Però, non ne posso fare a meno perché ho bisogno della quantità di dati che ci stanno in memoria. Ma poi non basta. Noi abbiamo della memoria che sta dentro all'unità operativa, i registri. Abbiamo la memoria centrale, che questa è indicata qua come RAM, memoria RAM, qui c'è scritto DRAM, sta per RAM dinamica, ma lasciamo perdere, è la tecnologia con cui è realizzata. In realtà poi ce ne sono varie. Si chiama memoria RAM random access memory, cioè memoria all'accesso casuale. Posso leggere o scrivere ciò che voglio. e dove voglio. E quindi abbiamo i registri e la memoria centrale. La memoria centrale sta dentro il calcolatore, ma sta fuori dalla CPU. E poi ci sono dei cuscinetti, queste che sono chiamate memorie cache, cache di primo livello e cache di secondo livello, che sono memorie intermedie, che sono via via più grandi, man mano che mi allontano dalla CPU, e un po' più lente. e servono per memorizzare i dati più recenti. Cioè, se voi avete i libri del liceo e dell'università, ne avete tanti, non vi stanno tutti sul tavolo, ma non mi servirebbe neanche averli tutti sul tavolo contemporaneamente. Li avete in libreria. Allora, voi cosa fate? Andate a prendere, quando dovete studiare una certa materia, prendete la libreria, prendete il libro e lo mettete sul tavolo. Il tavolo è come fosse la vostra cache. Se mi serve qualcosa, basta allungare la mano, ce l'ho veloce da accedere, ma poco capiente. La libreria è la mia memoria RAM, dove ho tutti i dati, ho molti più dati, ma ogni volta che devo andare, devo alzarmi, andare a prenderlo, eccetera. Non solo devo andare a prendere, ma molto probabilmente quando prendo qualcosa di nuovo, il tavolo ce l'ho già pieno e quindi devo prendere qualcosa e toglierlo dal tavolo. Proprio perché la memoria che esce, il mio tavolo, ha una dimensione limitata. Quindi, se io lavoro con i libri che ho già sul tavolo, lavoro molto più velocemente. Sono pochi, ma più o meno sono sempre gli stessi. Non è che mi metto a fare un termine di analisi e poi subito dopo mi metto a fare, avete solo tre materie, quindi, ho bastanti libri, ma immaginate quando è l'altra al liceo quando avete 27 materie diverse, no? E mi metto a fare una riga di latino e poi mi metto a fare un'altra cosa. Di solito c'è una certa continuità nelle operazioni. In Python, quando inizio a scorrere una lista, molto probabilmente leggerò tutti gli elementi di quella lista lì, non metto a un certo punto a metà della lista, ah no, senti, adesso vado a leggere un dizionario. E quindi, le celle di memoria che mi servono probabilmente avranno una certa, si dice in gergo, località. C'è molto probabile che se ho letto una cellula di memoria, subito dopo leggerò o scriverò di nuovo la stessa cellula di memoria o le celle vicine. Allora, in questo caso ha senso, così come i libri sulla scrivania, avere delle memorie intermedie più piccole, di transito, temporanee, che si ricordano i dati più recenti che la CPU ha chiesto di scrivere o ha chiesto di leggere dalla memoria centrale. In questo modo, alla CPU sembra di lavorare con una memoria che ha la velocità della cache di primo livello e la capienza della memoria centrale. Sembra perché c'è questo trucco di scambiare le cose in cui se mi va bene, se ho una buona località nei miei programmi, il numero di volte in cui dovrò scambiare è abbastanza basso. E qui ho disegnato due tipi di cache perché una, di solito, è sul processore, quindi ho il processore, unità di controllo, unità operative, le faccio, le progetto, tutto lo spazio che rimane sul processore lo dedico alla cache perché quella è una cache che viaggia alla stessa velocità del processore perché è fatta con la stessa tecnologia del processore. Poi posso avere una memoria cache più veloce che è tipicamente sulla scheda madre ma non è la memoria principale che è collegata in modo diretto al microprocessore e poi posso avere la memoria centrale. e qui siamo arrivati ai gigabyte, alle decine di gigabyte e poi? E poi abbiamo fatto una bellissima cosa, stacchiamo la spina e perdiamo tutto. Perché? Perché la memoria RAM è comunque un circuito elettronico che una volta che tolgo la corrente perde tutto, non memorizza nulla e quindi la memoria di tipo, così dice, volatile, perde i dati quando manca la corrente, quando li tolgo la corrente. Allora, ho ancora un quarto livello, cioè un ulteriore, l'ho preso il conto, un ulteriore livello di memoria che è una memoria che voglio che sia ancora più capiente e quindi parliamo di terabyte, non giga ma tera, ok? Quindi mille volte di più e che sia non volatile. Quindi se ci scrivo dei dati, oggi voglio che li ritrovo anche domani anche se nel frattempo ho spento il computer. E' la cosiddetta memoria di massa. Memoria di massa, questo è un hard disk, adesso non si sono più gli hard disk, si usa la memoria flash, la memoria allo stato solido, i dischi allo stato solido che sono tecnologia circuitale ma, diciamo così, permanente, non volatile, che ha queste caratteristiche. Di nuovo, abbiamo una memoria che è più grande ma più lenta ma è memoria non volatile. Quindi qui ci sono alcuni dati che parlano di memoria cache interna di secondo livello, diceva, magari ho qualche megabyte e mi risponde in qualche nanosecondo. La memoria centrale, la RAM, ne avrò qualche gigabyte e mi risponde in qualche decina di nanosecondi. Poi posso avere la terza colonna, i dischi allo stato solido, gli SSD, ormai sono ormai la norma all'interno dei portatili almeno, in cui posso avere centinaia di gigabyte o qualche terabyte, di solito li vendono a 500 giga o un tera, quelli più costosi a due terabyte di memoria, che non sono memoria non volatile, quindi quando il disco C, quando si prendete computer non si perde il contenuto, però è dell'ordine dei millisecondi il tempo d'accesso oppure i dischi, gli hard disk, che sono dischi rotanti, meccanici, che possono essere ancora più capienti. Perché possono essere più capienti? Ma perché costano meno, tecnologicamente costano meno e quindi è possibile per un prezzo ragionevole comprarne uno più capiente, ma sono più lenti. Adesso qui, in entrambi i casi hanno messo 10 millisecondi, ma in realtà non è vero, perché la flash, una volta che ho iniziato la prima lettura costa 10 millisecondi, le altre costano qualche millisecondo, che è sempre un milione di volte più lento della RAM e mai 10 volte più veloce di un hard disk. Quindi un sistema di elaborazione giorno d'oggi servono tutti questi tipi di memorie, sicuramente la memoria RAM serve, perché se no non potrei scrivere i programmi. sicuramente la memoria cache davanti alla RAM serve, perché altrimenti il processore aspetterebbe troppo. Se ragioniamo in cicli clock, la cache 1,5 nanosecondi sono 5 cicli clock, la memoria sono 50, il disco sono 10 milioni di cicli clock di attesa. Ok? No, scusate, sono già un milione alla RAM, perché da nano a milli sono c'è ancora micro in mezzo. Nano, micro, milli sono due volte tre ordini di grandezza, sono sei ordini di grandezza. E ovviamente mi serve anche, pur lenta che sia, una memoria permanente non volatile per evitare di perdere tutti i dati ogni volta che spengo il calcolatore. Il sistema operativo, i dati salvati, i file che salvo, eccetera. Quindi tutti questi dati servono, ciascuno ha le sue caratteristiche e compongono quella che in gergo chiamiamo la gerarchia di memoria, perché abbiamo veramente una gerarchia da memoria più vicina alla CPU, più veloci e più costose. Qui è indicato un costo, in realtà qui è sbagliato perché non è 10,5, è 10 alla meno 5, 10 alla meno 8, 10 alla meno 9, 10 alla meno 10 dollari al byte. E quindi è vero che la RAM è molto più lenta della RAM statica della cache, ma costa mille volte di meno per ogni byte. Ed è per questo che ne metto mille volte di più. Metto dei gigabyte anziché qualche gigabyte anziché qualche kilobyte. Ne metto mille volte di più perché costa a ogni byte mille volte di meno. E quindi devo bilanciare il costo di un sistema mettendo delle quantità che si equilibrino in grosso modo. Non avrebbe senso spendere tutto in RAM statica e poi averne troppo poca per i programmi che devo fare. Ecco, tutte queste cose in qualche modo si devono parlare tra di loro. Io ho fatto vedere che il processore è qua, che la RAM la aggancio da un'altra parte, ma come sono collegato il processore a questa RAM? Beh, attraverso queste piste disegnate. Ma queste piste non collegano solamente il processore con la RAM ma fanno un milione di altri collegamenti. Una volta cambio lato. Un milione di altri collegamenti ad esempio qua vediamo le porte USB. Qui vediamo la porta di rete, qui vediamo l'uscita video e l'HDMI, qui c'è l'ingresso dell'alimentatore di corrente elettrica, qui ci sono i spinotti audio. Cioè, tutte le periferiche del calcolatore in qualche modo devono essere collegate alla CPU. Quindi in qualche modo chi progetta un calcolatore non deve preoccuparsi solamente di far parlare a CPU con la memoria, quello è facile perché sono gemelli, ma anche con tutte le altre periferiche che non so neanche quali saranno. Come faccio a sapere che cosa ci collegherà alla porta USB il mio utente? Quindi ho bisogno di un meccanismo di collegamento che permetta di trasferire dei dati in modo standard, in modo versatile, da e verso dispositivi di tipo diverso dove il centro è sempre il microprocessore perché è lì che avviene l'elaborazione. Non è un sistema democratico un computer, comanda l'unità di controllo, comanda per finta perché in realtà chi comanda davvero è il software che abbiamo scritto. Tutto il resto è asservito, è asservizio di ciò che, ciò di cui l'unità di controllo ha bisogno. Ma per essere asservizio devo potergli dare gli ordini, devo poter passare gli dati, devo poter ricevere risultati e così via. E questo avviene attraverso dei sistemi di collegamento, immaginate quanti fili ci sono qua sopra, immaginate di dover collegare la CPU con la memoria e poi con l'input, con l'USB, con la rete, con il microfono, eccetera. Poi magari, sai, io devo poter collegare anche il disco con la memoria perché quando io clicco su un file e lo faccio partire lui deve prendere il contenuto del file da quel disco e copiarlo in memoria. Quindi l'interfaccia del disco deve essere collegata anche con la memoria. Avrò tantissimi componenti di questo calcolatore che devono poter parlare, non dico tutti con tutti, ma quasi. Però questo avrebbe un costo di interconnessione esagerato. Allora, non si usa una connessione punto a punto in cui ciascuno può parlare con gli altri, ma si usa una struttura di comunicazione condivisa che prende il nome di bus. Il bus alla fine è un gruppo di fili. un gruppo di fili a cui tutti sono collegati. O sono collegati direttamente perché sono saldati sopra, questo chip qua che non so che cosa faccia, non ho idea, è scritto Made in Taiwan ma non so cosa fa, è saldato sulla scheda e tanti di quei suoi piedini sono collegati agli stessi fili a cui è collegato il processore. Ma anche tanti dei piedini della memoria una volta che li infilo nel loro alloggiamento saranno collegati al bus del sistema. Quindi ci sono questo gruppo di fili che chiamiamo bus che viaggiano su tutta la scheda madre del calcolatore permettendo ai vari dispositivi di potersi collegare. Tutti i dispositivi non sono collegati direttamente tra di loro ma sono agganciati a questa linea di trasmissione condivisa. E quindi in qualche modo ho standardizzato il problema della comunicazione se devo aggiungere un'interfaccia in più una periferica in più aggiungo un pezzo in più allo stesso bus se ho bisogno di due schede di memoria anziché una semplicemente le aggiungo al bus non devo modificare nessun altro collegamento aggiungo in parallelo agli altri che già si sono. Ovviamente in una struttura di questo genere dove c'è un lungo gruppo di fili per tutti parla uno alla volta. Non posso avere un trasferimento di dati da questo a questo e contemporaneamente un trasferimento di dati da questo a quest'altro perché questi fili sono condivisi quindi o ci va il bit che ci ha messo questo o ci va il bit che ci ha messo quell'altro. Quindi in qualche modo anche qua ci sarà tutta la temporizzazione che dice chi può parlare quando su questo bus condiviso. È condiviso ma parla uno per volta e chi è che decide chi può parlare immaginiamoci un po' l'unità di controllo che dà gli ordini a questo punto non solo più alla sua unità operativa ma anche agli altri componenti che stanno sul bus dando i turni in certo senso dicendo che c'è un dato l'utente ha premuto un tasto allora tu controllore della tastiera mandami sul bus il tasto il codice del tasto che è stato premuto e il dà il turno nel momento in cui la tastiera scrive un dato sul bus gli altri non scrivono per non far pasticcia. e quindi in qualche modo anche la CPU deve fare un pochino da vigilo urbano di tutte queste comunicazioni che avvengono un po' come una rotonda quando entra uno poi aspetti che esca prima di far entrare quello successivo. Anche qua cosa faccio in un bus alla fine un bus mi permetterà di trasferire dei dati anche il bus avrà un parallelismo non c'è un filo solo c'erano tanti e dovrò avere probabilmente tanti dati quant'è il parallelismo della memoria e quant'è il parallelismo dell'unità operativa in modo che quando io posso leggere un dato della memoria all'unità centrale quel dato lì appunto lo leggo una volta solo soltanto tutti i fili che ho a disposizione quindi anche il bus ha un concetto di parallelismo un'ampiezza numero di fili numero di bit che è in grado di trasferire per ogni trasferimento e poi anche una frequenza un clock suo che dice con quale cadenza si possono trasferire i dati e qual è il tempo di risposta che tutti i dispositivi che si affacciano sul bus devono poter rispettare poi in realtà a sua volta il bus è diviso in tre sottogruppi di fili alcuni fili che servono per trasportare i dati propriamente detti e quindi lo chiamiamo data bus o bus dei dati il bus è unico ma è diviso in tre parti quella per trasferire i dati quella per trasferire gli indirizzi ricordate che quando abbiamo detto la CPU vuole leggere un indirizzo di memoria ok quindi devi dire alla memoria qual è l'indirizzo da leggere quindi dalla CPU alla memoria viaggia un dato che è un indirizzo dalla memoria alla CPU viaggia un dato che è il contenuto della cella che è stata letta e quindi per poter leggere e scrivere mi servono sempre questa coppia l'indirizzo della cella da leggere e il dato che ho letto una parte sul base dell'indirizzo e la parte sul base dei dati oppure quando scrivo l'indirizzo della cella in cui voglio scrivere sul base degli indirizzi e il dato che voglio scrivere sul base dei dati poi un altro pezzo di bus che viene chiamato control bus dove viaggiano i segnali di controllo i segnali di controllo sono anche qua il clock sono l'abilitazione chi deve leggere chi deve scrivere l'informazione se il bus in questo momento è libero occupato cose di questo genere che servono per mettere d'accordo tutti un po' il semaforo in certo senso del bus stesso se devo fare una lettura una scrittura informazione di questo genere quindi abbiamo un centinaio di fili magari 64 di indirizzo 32 di 64 di dati 32 di indirizzo e una decina di controllo che viaggiano in tutto il sistema e questo permette alla CPU di indirizzare la memoria quindi di poter accedere a qualunque cella di memoria e c'è una relazione ovviamente di tutte queste dimensioni io potrò indirizzare tante accede di memoria quanti sono gli indirizzi diversi che posso specificare sull'address bus quindi se io ho un address bus a 20 bit tanti anni fa erano così potrò indirizzare al massimo 2 alla 20 celle di memoria perché potrò generare solamente dei numeri interi che corrispondono agli indirizzi che vanno da 0 a 2 alla 20 quindi 4 mega un calcolatore con 4 mega è tanto che non ne vediamo adesso se abbiamo un calcolatore con 16 giga vuol dire che dovranno avere almeno 34 bit di indirizzo 16 giga come minimo e poi ogni cella di memoria può contenere tanti bit quanti ne passano nel bus dei dati nel database questo ci porta a dire che in un calcolatore che ha un determinato bus la dimensione del bus determina la quantità massima di memoria che potrò mai installare in quel computer perché di più la potrei mettere ma non la riesco a vedere non riesco a indirizzarla i suoi dati non si possono leggere non si possono vedere e la quantità massima di memoria sarà il numero massimo di celle per la capienza di una cella la capienza di una cella sarà il parallelismo della memoria che abbiamo detto che normalmente è uguale al parallelismo dei dati del bus e il numero di celle potenzialmente indirizzabili è 2 elevato al numero di bit con i quali potrò scrivere l'indirizzo e quindi il numero di fili dell'address bus quindi qua ovviamente questa è la mia massima memoria teorica non vuol dire che io ce l'abbia sul mio computer magari ne ho molto meno ma di sicuro non posso mettere di più quando vuoi comprare un calcolatore dici ok adesso io te lo vendo con 4 gigabyte di memoria è espandibile fino a 16 e se tu anche ne compri 32 li metti dentro e lui te ne vede solo 16 perché di più il bus non è in grado di gestirli ovviamente collegando la memoria e la cpu il bus in mezzo pone un limite un collo di bottiglia alla quantità di dati che possono passare la tipologia di dati che possono passare ecco questa è stata un po' una carrellata abbastanza rapida questi sono i componenti principali di questa architettura che vi ho raccontato cerchiamo solo di non confondersi tra i vari livelli interno e microprocessore c'è la cpu che è fatta l'unità di controllo l'unità operativa l'unità operativa fatta di registri e unità remetiche esterno al processore ci sono la memoria e le periferiche di ingresso e uscita la memoria centrale o la memoria di massa e poi ci sono le cache che sono diciamo così di mezzo di cuscinetto per velocizzare le operazioni se andate a guardare i quesiti che ci sono sull'esame su cui lavoreremo un po' nella settimana di gennaio magari riusciremo mettere in pratica le varie cose che vi ho raccontato ragionando su piccoli esercizi che corrispondono a ciò che chiediamo all'esame io oggi ho concluso ci vediamo mercoledì sperando che io non mi ammali se no al limite lo facciamo online ma tengo duro grazie a tutti Grazie.